Prima Marco Grasso ci ha detto che un consiglio regionale ha votato la fiducia a un presidente, la fiducia diciamo adesso sto sintetizzando, a un presidente agli arresti domiciliari. Allora risposta A, siccome è agli arresti domiciliari non è condannato in via definitiva per cui non c'è niente di male. Risposta B, però se agli arresti domiciliari forse bisogna almeno andare a valutare il perché e trarne delle valutazioni e trarne delle scelte politiche. Perché questo poi è sempre il dibattito, cioè quando la politica parla di questi temi alla fine siamo sempre lì. Eh ma tanto se non c'è la condanna definitiva è innocente oppure c'è chi dice avviso di garanzia, dimettiti. Questo è l'ennesimo segnale di una politica debolissima, una politica che in qualche modo non è in grado di assumersi responsabilità e quindi si arrocca in chiave difensiva. È un po' l'equivalente a livello diciamo di processo politico visibile, osservabile di quello che emerge proprio nell'inchiesta, nella sproporzione inquietante tra l'ammontare delle contropartite, concessioni che valgono 100 milioni di euro in cambio di una mancia elettorale. Ecco, nella politica, una politica appunto debole, si affida a aspetti formali, quindi formalmente pur agli arresti domiciliari può ancora fare il Presidente della Regione. Si affida alla legittimità appunto dei provvedimenti che chiaramente non richiedono in quel caso l'obbligo di... Però, ecco, che segnale lancia? Perché la politica ha una funzione che non è soltanto quella di prendere decisioni ma anche quella di, come dire, creare un senso di comunità, creare legittimità per le proprie scelte. Ecco, la delegittimazione complessiva che arriva all'intera classe politica, poi in particolare a quella colpita dalle inchieste, da una decisione di questo tipo, è un prezzo che in qualche modo verrà pagato dalle future generazioni politiche e che li renderà sempre più esposti a questo tipo di dinamiche. Quindi è una scelta mia perché, in qualche modo, come sappiamo, deriva dal delegare sempre al livello di responsabilità giudiziaria, quindi a qualcun altro, i magistrati che devono accertare se si sono commessi dei reati, dei crimini, quella che in realtà dovrebbe rientrare in una dimensione fisiologica, in un livello di responsabilità politica. E' chiaro, è talmente evidente che un Presidente per il quale sono emerse quelle vicende, al di là della rilevanza giudiziaria e che è in quella condizione di resti domiciliari, dovrebbe rimettersi, è l'ABC del rapporto di fiducia che dovrebbe crearsi tra i cittadini e i propri amministratori.